La sfusione giusta di Fausta Marinello Margherita adesso è una donna matura, non vuole sentirsi dire vecchia. Ha avuto una vita felice, che non vuol dire facile. Ma la vita è così, dicono, gioie e dolori. E Margherita è riuscita a godere degli uni e a superare gli altri. Ma non è ancora finita, perché anche la vecchiaia ha i suoi problemi. Margherita, però, è serena. Ora sa come e quando gioire, ma anche accettare le avversità e i problemi che l'età le riserva. Micca avrà vissuto finora per niente. Aveva una bella famiglia alle spalle, alla quale era legata in modo quasi viscerale, ma, come succede spesso, si sentiva quasi schiacciare da quel troppo amore che le veniva dato e voleva uscire da quel nido sicuro per volare oltre. Non sapeva nemmeno lei esattamente dove. L'unica cosa certa è che voleva trovare il suo posto nel mondo. Si sentiva già vecchio a vent'anni. Non aveva un cavolo di fidanzato. Anzi, non c'era proprio nessuno che le facesse la corte. Sentiva le sue amiche raccontare di incontri con ragazzi, di baci, di carezze, di amore, di amore. Ma quando, dove, come, con chi? E poi, questo decantato amore cos'era veramente? Margherita cercava di immaginarsi tutto questo, ostendando una sicurezza che non possedeva. Improvvisamente, una sera, durante una cena fra amici dell'oratorio, qualcuno si avvicinò a lei. Era il classico bullo del paese che si pavoneggiava, ma guarda caso aveva diretto il suo interesse proprio verso di lei. Si sentì osservata. Immaginò i commenti che uscivano dalla bocca degli altri ragazzi. Ma lei finalmente si sentì importante. Fosse questo l'amore? Cominciò così la sua vita oltre il nido sicuro che aveva avuto fino ad allora e che l'aveva protetta. Lei e Mario erano come il diavolo e l'acqua santa, ma si sa, gli estremi si attraggono. Non si sa per quale dono particolare, ma affrontare le sfide era la parte forte di Margherita. E questa sfida, con la vita che si prospettava davanti, voleva proprio accettarla. Fu così che si sposò dopo qualche anno con Mario, contro tutto e tutti. Nel giro di poco tempo riuscirono perfino a mettere d'accordo tutti coloro che avevano osteggiato il loro matrimonio. Finalmente Margherita capì cosa fosse l'amore. L'amore con la A maiuscola, che va oltre il rapporto di coppia e si espande verso gli altri. Passarono anni sereni, perché dire felici è troppo impegnativo. Anni in cui lei e Mario dovettero affrontare malattie e prove difficili, cambiare lavoro, trovare casa, fare debiti, sentirsi rifiutare aiuti sperati, ma riceverli poi da persone qualsiasi. Passo dopo passo la vita cominciò a girare per il verso giusto, grazie soprattutto al loro lavoro. Non avevano fatto il conto però con l'invidia della gente. Erano passati cinque anni dal loro matrimonio quando nacque Martino. La gioia fu enorme. Il gestirlo da solo e per Mario e Margherita senza esperienza fu quasi traumatico. Martino comunque crebbe ed ebbe la gioia di parenti e di amici ed il vant dei suoi genitori. Era un bellissimo bimbo, pacioccone e sempre sorridente. Tutti se lo mangiavano con gli occhi. Ma le gioie devono essere assaporate a pieni polmoni. Subito tutte. Riempirsi di felicità è come fare una trasfusione di sangue. Ti aiuta a superare i dolori che poi verranno, perché la vita è così. La vita una mattina ti presenta il conto da pagare e se non hai fatto il pieno della trasfusione giusta rischi di morire, di morire di dolore. Margherita e Mario ancora una volta ripresero in mano la loro vita e con il tempo riuscirono a capovolgerla. Ci vollero anni, ma mettendo da parte orgoglio, rancori, gelosie, trasformarono il loro dolore in amore. Non fu assolutamente facile. Le ferite si rimarginano, ma le cicatrici restano. Per sempre. Ma sono proprio quelle cicatrici a ricordare che se ci sei riuscito una volta, puoi riuscirci ancora. Perché la vita è bella e va vissuta a pieno, sempre. Se poi ci petti un po' di amore in quello che fai, se accetti le sconfitte e ne fai tesoro, se condividi le gioie altrui e le fai tue, se sai ringraziare e perdonare, la vita ti riserverà sempre nuove emozioni. Grazie a tutti.